Dopo la partenza nella scorsa estate di Ariel Filloi se ne è andato un altro capitano. Michele Antonutti infatti ha deciso di lasciare Pistoia per avvicinarsi a casa lui e Di Udine accettando le proposte dell'ambiziosa Treviso in Lega 2. Il suo Dalizio Veneto ha ufficialmente annunciato il suo arrivo, mentre lo stesso Antonutti, sul suo profilo Facebook, ha ringraziato la città di Pistoia e la società Biancorossa per l'affetto ricevuto. «Quando si racconta una storia, ha scritto Michele, a me piace pensare a tutte le emozioni che si vivono durante il cammino, mi piace pensare ai risultati storici ottenuti, pensare al raggiungimento della salvezza già nel girone d'andata, pensare alla Coppa Italia, ai play-off, mi piace pensare ai momenti in vetta alla classifica, sì, da capolista. Le storie portano con sé i rapporti umani, sempre. Il pensiero va a una coppia di presidenti, Roberto e Ivo, unici nella loro umanità. Il pensiero va ad Antonio, la famiglia Tese, amici vicini al basket, con passione e con grande cuore. «Il pensiero va ad Enzo, il condottiero di un gruppo vero. Il pensiero va a chi lavora dietro le quinte e ama questa squadra, il cui capitano storico è Vinicio. E poi l'anima della squadra, i tifosi, un patrimonio di questa città. La sinergia tra il basket e la gente, questa energia nata con voi la porterò sempre con me. Un abbraccio» Michele Antonutti. Sul fronte mercato va ricordato come la società di via fermi si stia muovendo con calma, ma come sempre con grande acume. Per ora le certezze si chiamano coach Vincenzo Esposito, il pivot Daniele Magro, riconfermato, il play Tommaso La Quintana, nuovo, e l'ala polacca Oleg Gigi, di ritorno dopo poco più di un anno. Il Pistoia Basket infine ha anche provveduto a smentire le notizie apparse sulla Gazzetta dello Sport negli ultimi giorni sulla possibilità di un ingaggio a sorpresa di Alessandro Gentile. Ovviamente si parla soprattutto di costi proibitivi.